Abbiamo organizzato una 10 giorni di eventi all'Anfiteatro Rastat, un dieci giorni di eventi che si chiamerà E' Luceva alle stelle. In questi dieci giorni ci saranno degli spettacoli dove il mare lucica, un omaggio a Lucio Dalla, un omaggio a Morricone con l'Orchestra Sinfonica di Pesaro, un omaggio a Michael Jackson, poi avremo due serate il 16 e il 17 con la Pandolfaccia delle serate medievali per passare al 19 una nota tra le stelle organizzata da una scuola tra le note e un'ultima serata The Best Of che sarà il giorno 19 e oltretutto questo è il programma iniziale che avevamo fatto, si aggiunge al giorno 22, sabato 22, uno spettacolo del GAF. Ecco ci teniamo molto perché è uno spettacolo divertente, è una compagnia a cui teniamo molto, il titolo dell'evento sarà Se ne la faremo, ne la faremo a Romolo, quindi già il titolo preannuncia un bel divertimento, quindi vi chiedo di acquistare i titoli su live ticket, saranno disponibili su live ticket oppure li potete acquistare direttamente all'edicola dietro alla farmacia Vannucci. I biglietti saranno acquistabili anche in loco dalle ore 8, ci sarà una cassa per poterli acquistare, però noi speriamo di venderli tutti online e quindi datevi da fare per acquistarli perché già le serate cominciano a riempirsi e quindi c'è il rischio che arrivate lì e i biglietti non li trovate. Un'altra cosa che vi raccomando, siccome le serate saranno tutte in sicurezza, ci sarà un numero massimo di spettatori, 360 e quindi non vorremmo che alcuni si presentassero con i figli senza biglietto e i figli non possono entrare. Ecco, vi chiediamo di fare anche dei ridotti per i vostri bambini, i prezzi sono popolari perché vanno da 2 euro a 10 euro, i ridotti costano 1 euro, quindi cercate di aiutarci in questa cosa perché noi abbiamo cercato di fare tutto in sicurezza rispettando tutte le normative, se ci date una mano anche a voi sarebbe, ecco, è un bene per tutti. Vi aspettiamo quindi dal 13 al 22 per questi spettacoli all'Anfiteatro Rasta, come dicevo acquistate i biglietti su Live Ticket, buon divertimento a tutti!